C'è qualche problema nella partita di Casalinga, se non si riesce a sbloccare il punteggio poi esce difficile, troverai il partugio giusto. Sì, tanta sfortuna, però non dobbiamo solo accamparci alla sfortuna perché noi potevamo e dovevamo sbloccarla questa partita in qualche maniera perché le occasioni ce le abbiamo avuto, siamo stati quasi sempre nel loro metà campo e dobbiamo essere bravi a metterla in discesa perché poi se le sblocchi chiaramente viene fuori in un'altra gara. Molte questioni, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo è mancato qualcosa, cosa può essere mancato? Nel secondo tempo era più difficile perché loro erano ancora più coperti, erano più bassi, passi ce n'erano pochissimi quindi più ti avvicini a fine partita poi più chiaramente diventa difficile e poi abbiamo commesso un'ingenuità grossa secondo me sul gol del Modena perché quei gol là non si possono prendere. Ma dai un messaggio ai tifosi di stare tranquilli nonostante questi ultimi risultati? I tifosi ci hanno incoraggiato poi chiaramente alla fine si erano un po' scocciati e chiaramente hanno fatto sentire il loro malumore è chiaro che il campionato va avanti, noi dobbiamo solo ripartire, rimetterci in moto e sapendo che c'è ancora tanta strada da fare ai tifosi i messaggi non glieli devono mandare, loro lo sanno bene, d'altro canto mi sembra che all'inizio hanno cantato ce ne sono stati vicini, nulla da dire ai tifosi. Forse per motivi solo tattici è meglio giocare adesso fuori casa che in casa? No io riesco a giocare in casa, guarda onestamente, dico la verità, in casa noi dobbiamo costruire il nostro campionato però chiaramente non sempre ti riesce perché ripeto, lo dicevamo anche qualche settimana fa, il campionato è abbastanza equilibrato. Ai giocatori cosa ha detto a fine partita? Dopo la partita non parlo mai. Martedì cosa dia? Martedì parleremo, sicuramente analizzeremo la partita.